Cosa vanno a gioia in menza domenica scorsa? Un gol che vale una stagione, un gol che proietta il Gela in piena zona playoff. Esatto, è stata una grande soddisfazione dopo un periodo in cui ho giocato poco, ho avuto poco continuità e poco spazio, perciò finire così l'ultima giornata tra il non fare i playoff e la possibilità di fare i playoff e essere decisivo per portare la squadra ai playoff è stato quello che mi ha cambiato, non dico la stagione, però ha fatto un gran passo in avanti, sicuramente per le prossime due partite. Ma quando poi alla fine della partita avete saputo che la Palmese aveva perso a Castrovillari, cosa è accaduto nello spogliatoio? No, allora già durante la partita qualcosa dalla panchina si diceva, tra i giocatori è passata la voce in cui Castrovillari vinceva, perciò durante la partita eravamo così concentrati a non subire gol perché era una partita così dura e loro non smettevano di attaccarci che poi quando arrivavamo anche in spogliatoio non è che abbiamo esultato tantissimo, perché comunque per rispetto alla Sarnese che era retrocessa ci siamo contenuti, ma poi in Pulma abbiamo avuto i giusti festeggiamenti. Possiamo definirlo, quello conseguito dal Gela, un mezzo miracolo? Allora, dipende dal punto di vista, io credo che comunque è stato l'insieme di una stagione, di una grande stagione, di tanta concentrazione, di un grande gruppo che non ha mai mollato nonostante il periodo negativo che abbiamo avuto un mese fa, però ha avuto la freddezza di essere lucida, di arrivare all'ultima partita fondamentale in casa di una squadra che lottava per la salvezza e è riuscita a vincere, perciò possiamo dire per tutti i telespettatori, i tifosi, i giornalisti, tutte le persone che vengono fuori che è stato un mezzo miracolo, ma per noi siamo stati ripagati dal nostro duro lavoro. Manca l'altro mezzo miracolo, se riuscisse domenica a Rende sarebbe un miracolo completo? No, a questo punto il vero miracolo è vincere i play-off, no Rende. Rende è il nostro prossimo obiettivo, che vedo la squadra concentrata e con la cattiveria che abbiamo riacquisito, perché comunque negli ultimi due mesi, per come tutte le sconfitte e il malumore, comunque era un po' scomparso, perché comunque i play-off erano un po' più lontani e perciò era un po' scomparso l'obiettivo dei play-off. Ma dopo la vittoria di domenica questa rabbia, questa voglia di poter arrivare domenica a Rende e a vincere è tornata.